La mattina ci sentiamo qui, tutti insieme. Mi piace perché è un momento in cui ci fermiamo e possiamo guardarci negli occhi, cantare una canzone, leggere un libro, chiederci che giorno è o che tempo c'è fuori. Questa è la nostra agenda del tempo! Ci aiuta a scandire i momenti della giornata. Siamo liberi di scegliere i giochi e i materiali da utilizzare. E di muoverci liberamente negli spazi. Come per magia, possiamo essere al mare. Con secchielli e palette possiamo scavare la sabbia o costruire castelli. Possiamo essere anche chef. Possiamo fare la lavatrice e questo spazio è anche il nostro ristorante. Qui accarezziamo la creta, la manipoliamo, la modelliamo e la trasformiamo in bellissime creazioni. Noi possiamo uscire in giardino in tutte le stagioni. Con la pioggia, con il sole, con la neve, basta indossare i stivaletti e le tute da fango che ci proteggono. Puoi ammби effetti c'è un punto. Grazie a tutti.